L'istituto comprensivo Pietro Visconti di Ogliastro Cilento, modello scolastico di eccellenza territoriale. Durante il famigerato lockdown italiano a causa del Covid-19, l'istituto ha saputo immediatamente reagire, predisponendo sin dai primi giorni di marzo la DAD, con un orario settimanale ridimensionato, ma che ha compreso tutte le discipline. Gli alunni in questo modo sono stati impegnati ogni mattina a seguire i loro professori in video-lezioni live e a interagire sul registro tramite la piattaforma Collabora. Tablet e PC sono diventati la chiave per accedere alle classi virtuali per non restare indietro nella didattica. I docenti della scuola secondaria del Visconti ancora una volta si sono resi protagonisti di una bella iniziativa. Hanno risposto alla campagna GoFoundMe, insieme al preside Vincenzo Rendina, al sindaco di Prignano Giovanni Cantalupo e ad alcuni genitori. L'iniziativa è stata organizzata dal professor Michele Tamburrino, nata nell'ottica della diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento della didattica a distanza da parte del MIUR, a favore delle fasce più deboli. Infatti i tablet acquistati sono stati donati all'Istituto Cilentano. Altra iniziativa, che partirà nel mese di maggio, è un laboratorio per la realizzazione di mascherine. Le professoresse di arte e tecnologia Angela Di Nolfi e Marina Lembo hanno deciso di coinvolgere alunni e genitori su un progetto di didattica laboratoriale che possa essere di aiuto all'intera comunità. Il progetto ha la finalità di dotare la scuola di mascherine in vista della riapertura di settembre. I ragazzi le realizzeranno con materiale di riciclo, quindi i laboratori avranno lo scopo di sensibilizzare i giovani all'importanza di rispettare le prescrizioni dettate dal governo in una modalità green, rispettosa dell'ambiente e dell'importanza del riciclo. Il progetto vedrà la sua conclusione a settembre, quando si spera si potrà tornare nelle classi. Gli alunni saranno poi guidati dal tappeziere del verme di Prignano, che metterà a disposizione delle stoffe per proseguire il progetto con attività laboratoriali di cucito. Inoltre, l'Istituto Visconti, in vista del nuovo anno scolastico, si sta preparando per migliorare ad integrare la propria offerta formativa. Già nel mese di gennaio sono stati attivati corsi di violino, pianoforte e chitarra in convenzione con il Conservatorio di Musica di Salerno. I maestri, reclutati con bando pubblico, svolgono un programma ministeriale. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al termine di ogni anno scolastico, sosterranno un esame in presenza di una commissione formata da maestri del Conservatorio, che valuterà il passaggio a livello successivo. Gli alunni della primaria, infine, dal prossimo anno, potranno seguire corsi di violino, percussioni e musicoterapia. Il corso di musicoterapia è aperto anche al territorio.